Guardiamo adesso il funzionamento di una macchina fotografica molto molto popolare ed è la classica Polaroid, questa è una Polaroid Color Pack 2 vediamo subito il funzionamento, vedete io già l'ho aperta qui c'è un gancio, un ferro che si aggancia e si apre per poterla aprire all'interno questo è l'interno della macchina fotografica con il vano per la pellicola che può essere 667 o 669 poi vi spiego un'altra cosa, qui c'è una levetta, la vedete, la tirate in basso e aprite perché bisogna fare questo? Bisogna fare questo perché questa macchina fotografica ha bisogno per funzionare di due pile le quali alimentano anche il flash che vediamo dove andrà inserito è molto facile inserirle, ha due slitte, una e due e si richiude una volta richiusa, di fatto queste pile alimentano il flash che si trova nella parte laterale nell'inquadratura avete visto che tipo di flash è? sono i classici flash cubo che permettevano di fare quattro scatti e praticamente una volta che si scattava il flash girava e utilizzava l'altra lampadina, vedete, ha quattro lampadine sui quattro lati e quindi le pile servono ad alimentare il flash che va inserito lateralmente sopra vedete ha 75 e 3000 che cosa vuol dire qui 75 o 3000? sono gli ISO il rapporto la pellicola che usiamo se usiamo la 667 metteremo a ISO 3000 se usiamo la 669 utilizzeremo ISO 75 il funzionamento poi è molto semplice vedete questa rondella segna la distanza del soggetto che va, come vedete, da un metro a nove metri e via fino a infinito ora, inoltre, ha questa levetta, questa rondella frontale che vedete c'è scritto darken e lighten che cosa vuol dire questo? vuol dire che se vogliamo le foto più o meno luminose ci regoleremo noi il rapporto a questa levetta chiaramente è molto intuitiva come cosa non c'è una base fortemente scientifica o calibrata nettamente quindi dovrete attraverso l'uso capire com'è meglio utilizzarla e infine, infine abbiamo il tasto avete sentito, sta scattando il tasto, questo qui, che è segnato con un tondino rosso se noi lo giriamo lateralmente si blocca serviva per evitare di sprecare degli scatti le foto uscivano da questa finestrella laterale e inoltre il soggetto veniva inquadrato lo potevano inquadrare da questo mirino che è nella parte superiore penso che queste siano un po' le caratteristiche generali che vi dovevo dire l'ultima cosa, scusate, ho dimenticato la pellicola, questa è vuota andava inserita così all'interno si inseriva così internamente aveva questo volume inseriva qui e si chiudeva spero che vi sia stato utile e buon utilizzo se andrete a comprarla